Per me è una partita come l'altra, una partita che viene dopo la Juventus e praticamente ci sono gli stessi stimoli da parte mia, cercare di fare buona figura. Io spero che i giocatori hanno la voglia di dimostrare contro la grande squadra che sanno anche loro qualche cosa. Come affrontarlo? Non è facile, ma io spero che ci riesce bene fase difensiva. Vabbè, io lo conosco, per me è stato il più grande giocatore che ho avuto, che ho visto da vicino. E quindi secondo me se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Io capisco che la situazione di oggi ci può levare la voglia, però lui ama palomino, ama calcio. E quindi se se la sente è giusto che continua, se non se la sente. Ma la situazione di oggi, in generale, nel modulo del calcio, o a Roma è una buona società? Allora Roma, visto che lui gioca in Aro, aspettatevi una partita. Aspettatevi una partita. Io ripeto, io spesso giocavo con tipo 4-5-1 contro queste squadre. Che poi è il problema di ripartire, di mettere in difficoltà la difesa partendo da più lontano. Io lo spero, perché noi in fase offensiva abbiamo fatto poco, a parte la prima partita con Genova. Il discorso è che magari con la Juve abbiamo giocato tre paloni dentro l'area dell'avversario. Noi ci alleniamo, io mi sforzo di mandarli dentro l'area, ma io c'ho attaccanti che ci piace più costruire che attaccare la porta.